Lo sviluppo della tecnologia ha portato diverse innovazioni in termini di operazioni estetiche. In questo contesto, le applicazioni di liposuzione sono ora preferite come liposuzione laser. In questa applicazione, che mira a rimuovere le cellule adipose situate nella parte inferiore della pelle, si ottiene anche un esame regionale. Lo scopo principale è quello di essere purificato dagli oli regionali. Non bisogna dimenticare che il paziente ha ricevuto un servizio indolore in questo processo. Dopo la procedura, il problema dell'esercizio e dei grassi alimentari può essere completamente eliminato. La liposuzione laser è realizzata con dispositivi speciali sviluppati con le ultime tecnologie.